Salve ragazzi, sono Torchicundici e ieri 20 gennaio 2012 ho compiuto un anno su YouTube. Vi ho promesso un video speciale che non è questo, ma in fase di elaborazione. No, non lo sto caricando, ma devo radunare un po' di persone. Allora, io sono andato prima allo Shan per fare spesa, sono andato a GameStop, non c'era. Ciò che cercavo, sono andato a un altro GameStop e non c'era neanche qui cosa cercavo. Sono andato all'Eronyx, si è risolto tutto e c'era quello che cercavo. Cosa cercavo? Gioevo da Kindorina senza guardare. Wrecking Ball, X e Dino. Abbiamo i tre nuovi Skylanders da poco usciti in Italia e li abbiamo insieme. Iniziamo da X, uno dei miei Skylanders preferiti. Sfasciamo senza risparmiare niente. Acqua, qui, tiriamo fuori la setina. Non c'è un po' di bianco. Non c'è proprio bene? Non c'è, non c'è un po' di bianco. ecco qui, tiriamo fuori la statura, la miniatura, eccolo qua ex, la magra degli spett, ovviamente questo non è il suo nome, così mi piace chiamarlo, solito codice online, che non vi faccio vedere, stickers e carta con le abilità attacco, difesa, fortuna e agilità. Bene bene, procediamo con il breaking ball, la palletta fucciosa della magia, ovviamente i soprannomi, li invento io. Ah, e colgo l'occasione per chiedere al Mr. Comic Master di non rompere più le scatole, perché mi stai dando veramente fastidio, non vorrei bloccarti, ma non darmi fastidio, perché mi scoccio facilmente. Tiriamo fuori la miniatura, eccola qui, poi qui abbiamo le solite. Ok, codice online, stickers e carta con le abilità. Perfetto, possiamo continuare con DinoRang, che è uno degli scalanti spiagliati da The Pacobis, se non ti ricordo male. Ah, si è aperto abbastanza velocemente. Quando sono andata per l'Eronix stavo facendo un epic fail, perché se sbaglio avevo preso due DinoRang e un X. Scusate se ci metto un po', ma sono l'odore. Uffa, più dura della Bedrock. Le azioni Minecraft. Vai, calore. Ci volevo una big fail in questo video. Eccola qua, la maledetta statuetta di DinoRang, che è caduto pure, e le solite cartine. Qui intanto una panoramica veloce degli scalanders. Qui abbiamo codice online, stickers, un attimo che lo rialzo, ecco, rivediamolo, e carta con le abilità. Bene, per questo video è tutto. Ciao da Detocci e Comici. SIGLA